ciao e benvenuto sul mio canale io sono michael e su questo canale condivido le mie esperienze zaino in spalla in italia all'estero e soprattutto nella mia terra il salento oggi ti parlo dello zaino che ho scelto per fare trekking e per le mie uscite brevi si tratta di uno zaino molto leggero da 12 litri resistente e perfetto per diversi tipi di utilizzo in descrizione poi vi lascerò anche il link iscriviti al canale presenta queste due retine laterali che permettono di inserire borracce di varie dimensioni io sono riuscito ad inserire anche una borraccia da 0 75 frontalmente a questo tastino qui molto piccolo però utile per mettere le chiavi e portafogli all'interno a un taschino anteriore più profondo rispetto a quello esterno uno scomparto posteriore per mettere un piccolo tablet e lo scomparto principale sufficientemente capiente per mettere una o al massimo due fette vi lascio il link del loro zaino in descrizione e se il video vi è piaciuto lasciate un like lasciate un commento se avete delle domande riguardo lo zaino iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao